Juventus-Salernitana termina con un parecio 1-1 stasera 12 maggio 2024, la Juve gioca in casa, la Salernitana fuori casa, segnale di gol per la Juventus è stato Adrian Rabiotto nella parte finale di gara, per quanto riguarda invece la Salernitana, arriva prima i gol per la Salernitana proprio nel primo tempo, a firma di Niccolò Pierozzi. Le statistiche però sono tutte a favore della Juve rispetto alla Salernitana, abbiamo più possesso di palla, molti più passaggi, una precisione dei passaggi a livello percentuale è maggiore rispetto alla Salernitana, quindi diciamo che la Juve gioca meglio, però se come giusto che sia il risultato è quello che conta, bene termina con un mero, parecio 1-1, bene. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, il video termina qua, iscrivetevi se io per commentare, una buona sera a voi.